Siamo una cooperativa nata 35 anni fa, più o meno, con la gestione di servizi sociosanitari, quindi sociosanitari assistenziali, e tuttora gestiamo appunto per gli enti pubblici, quindi soprattutto comuni, ULS, Regione, servizi di assistenza domiciliare, educativa domiciliare, quindi servizi a favore degli anziani, a favore dei minori, centri diurni per anziani, e gestiamo servizi sociali per conto dei comuni, quindi tutta la parte dell'assistenza sociale. Un paio di anni fa abbiamo cominciato l'avventura, quindi un servizio per noi totalmente nuovo, che è stato quello della gestione dei servizi di accoglienza di persone richiedenti asilo politico, con una specificità, che è stata subito quella di gestire solo donne e bambini. Sorrido perché abbiamo cominciato con una cosa che per noi era naturale, perché siamo una compagine al 99% a carattere femminile, quindi il 99% dei soci lavoratori della cooperativa sono donne, e quindi poi abbiamo cominciato con un affidamento diretto con la prefettura di Padova. I numeri dell'accoglienza? Allora, ecco, poi dopo i primi mesi, diciamo, di gestione da soli, siamo entrati all'interno della compagine del consorzio e all'interno della compagine del consorzio si stima più o meno che ci siano, ad esempio, 119 donne e noi abbiamo 41, in questo momento 41, quindi andiamo tra i 40 e le 50 presenze per quanto riguarda le persone accolte. I bambini? I bambini sono circa una decina e vanno dagli 0 anni, nel senso che ne abbiamo da una settimana, quindi l'età di una settimana, 15 giorni, fino a forse il più grande, appunto il bimbo di Marte, che ha un anno e mezzo. Il numero dei bimbi è circa, attualmente mi pare, una decina e mi chiedevi del ricongiungimento, scusa che mi ero persa, quella mamma l'abbiamo ricongiunta quando la bimba aveva circa 7-8 mesi e il papà era a Milano. Molte mamme arrivano chiedendoci il ricongiungimento, quindi chiedendoci di essere riavvicinate al rispettivo partner. Tante altre invece arrivano dicendoci che o non hanno notizie del compagno o marito oppure appunto purtroppo il marito non c'è più e quindi arrivano da sole. Loro quando arrivano hanno una copertura sanitaria provvisoria appunto e noi quasi subito andiamo a richiedere la tessera sanitaria, quindi quando hanno poi la tessera sanitaria possiamo andare appunto a chiedere un medico di base, quindi loro sono seguiti da medico di base normalmente, le mamme, e da pediatra di base i bimbi. Devo dire che con le donne è necessario quasi sempre dare anche dei servizi aggiuntivi rispetto a questo, nel senso che spesso il pediatra di base non basta e quindi creiamo dei rapporti e delle collaborazioni con i consultori familiari e quindi magari noi adesso abbiamo diverse mamme che vengono seguite dall'ostetrica, abbiamo percorsi di educazione alla salute creati in collaborazione appunto con i consultori, quindi attiviamo i percorsi di supporto e sostegno alla genitorialità, tutti i percorsi che dobbiamo creare per dare una mano a queste mamme. All'interno della nostra accoglienza quasi la metà delle ragazze sono già attive in percorsi di tirocino lavorativo, alcune di loro siamo riusciti ad inserirle appunto come Marte all'interno della compagine, quindi lei ha fatto ad esempio appunto ha concluso come diceva la scuola Badanti, poi ha fatto un tirocino presso un nostro centro di urno per anziani, dopodiché attualmente lei sta lavorando con un contratto fatto appunto dalla cooperativa in servizi sociosanitari o servizi assistenziali in questo caso perché lei appunto ha il titolo di Badante. Altre ragazze l'hanno fatto, abbiamo anche ragazze che hanno avuto l'asilo politico e che attualmente dopo aver fatto tutto il percorso con noi sono in autonomia, quindi sono uscite, hanno un lavoro e si autofinanziano per tutto perché hanno una propria casa e abbiamo attivato invece altri tirocini lavorativi con delle borse lavoro con dei calzatori fici della riviera del Brenta e quindi abbiamo sette ragazze inserite adesso nei vari calzatori fici, nelle varie aziende di scarpe, abbiamo un paio di ragazze inserite grazie ad una collaborazione di una consorziata che è la cooperativa Coges in alberghi di Venezia come Lilton che stanno facendo delle borse lavoro e poi abbiamo altri percorsi che sono stati creati grazie alla collaborazione della cooperativa Solidalia con tirocini e borse lavoro appunto presso la cooperativa Solidalia. La gestione della donna in quanto donna è molto più complessa rispetto ad un'accoglienza maschile e questo mi sento di poterlo dire perché abbiamo da pochissimo cominciato ad accogliere, abbiamo pochi numeri perché abbiamo solo cinque uomini in una microstruttura, però l'accoglienza al maschile è un'accoglienza molto differente da quella femminile, tanto che in consorzio stiamo promuovendo anche il tavolo delle donne che è un tavolo che vede proprio al centro una procedura di accoglienza, quindi stiamo lavorando sulle procedure dell'accoglienza al femminile che prevede tutti altri servizi o comunque tanti altri servizi complementari. L'essere donna, quindi tutte le problematiche sanitarie dell'essere donna e poi madre, quindi tutte le problematiche legate alla mamma, alla genitorialità come dicevamo prima, all'assistenza poi dei bimbi, quindi tutta la parte di accompagnamento anche nella gestione appunto del bimbo. Io vengo di Cameron. Hai un bambino? Sì, si chiama Edi. E quanti anni ha? Un anno e cinque mesi. Quindi è nato qui in Italia? Sì, 2 ottobre 2016. E tu sei arrivata qui quando? Il 4 marzo 2016. Quindi tu eri incinta? Sì. Com'è stato partorire qui? Bene. In ospedale che sei trovata bene? Sì, sì, bene. Tu vivi da sola, non hai un partner? No, vive da sola. In una casa con altre persone? Sì, come mia sorella, si chiama Vicky, e un'altra ragazza che vengono di Nigeria. Perché tu sei andata via dal tuo paese? Perché ha un problema come la famiglia. Sei arrivata con un barcone? Sì. E com'è andato il tuo viaggio? Intanto sei passata per la Libia? No? Sì, ma ho fatto un mese. Di viaggio? Di viaggio. Sono arrivata in Libia, abbiamo contratto, come si dice, ribelle, ho fatto due mesi in prisione. Sei arrivata in Italia, poi sei finita a Ecoficina? E sei stata lì per quanto tempo? Due settimane. E poi sei attraverso la cooperativa? Sì, come la cooperativa fa? Sei andata in questo appartamento? Sicuramente, sì. Un bel appartamento, ci trovi in Padova. Nel tuo paese lavoravi? Cosa facevi? Sì, sì, sì. Ho lavorato cinque anni in una fabbrica, si chiama Brasseria. E cosa facevi? Le birre. Le birre? Sì, le birre. Adesso, prima quando sono arrivata alla cooperativa Fai, ho fatto il corso di banante e anche il corso di scuola testa media e dopo ancora ho fatto il tuo ritino della cooperativa Fai. E adesso lavori? Adesso lavori. E cosa fai? Mi piace molto l'Italia. Grazie. 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 Grazie.